Sta arrivando un nemico Salta Mamma mia ragazzi Mamma mia che fight Bella da non hai visto che fight qua Stavo per perdere per colpa tua Arma guerra raga Grande Yuri Grazie bro per le 50 Anch'io mi sento uguale Ah la robbia Ok scusi bro non avevo capito C'è di tutto secondo me Ormai Veramente io non ho più parole Mamma mia raga Se fa paura Ormai mi esaurita Rientro alla base Why are you cheating? Why why who is cheating? Chi? Chi? Who is cheating? Chi amore mio Chi? Why you are cheating? Chi cheitta? Chi? 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 Chi cheitta? Chi? Chi cheitta? Chi cheitta? Hò qua mei continuano a pusharmi chiunque esatto ragazzi ora ci si rilassa un po' guardando intorno è così che va ragazzi l'arma guerra fa paura davide sarah andrei domenico grazie a tutti per i like ragazzi grazie di cuore come vi sembra questa arma guerra e questo gm così insieme cosa ne pensate ciao rovi come stai grandissimo tutto bene prima che qualcuno pensi male ne pingava due lì sopra un attimo fa quindi ho guardato è uscito ho sparato buonasera bello mio come stai rovi tutto bene angelo grandissimo bestia per il like dai chat vi voglio più attivi voglio oddio è arrivata una scatarmaranata in bocca mi sa dai però questo lo prendo così cerco qualche bella cassa ricerca iniziata scopriamo nuovi ragazzi non c'è niente di la la dovrei andare in macchina però si avvicina nuova zona sicura per voi io adesso ti posso assicurare che in escassione buonasera buonasera Erli come stai dove ne è poi dov'è che pingava a cassa arancioni ah mi son dimenticato c'è uno lì oh ho appena pingato non è che era una bomba yeah yeah me too man me too ah sei in movimento no way uno di vita mi ha lasciato uno ciao gergei se ti servono i codici sconto per vaporart scrivimi in privato che te lo do eh non lo so ragazzi ora sto aspettando anch'io Michelone Antonio Erlinda Alessandro grazie a tutti per i like sto aspettando anch'io uguale non è facile trovarlo per un cazzo ciao Alessio come stai grandissimo tutto bene ciao a teo bella car... bella car... bella car... bella car... mi ne batteo tardi adesso come state tutti ciao c'è un nuovo via avanzato nemico tenetene conto ma ci dovrebbe essere il settaggio dell'UGM raga provate a fare un attimo punto esclamativo orco due mamma mia anche UGM 8 raga fa paura fa paura ciao Stefano Lorenzo tutto bene Erli tutto bene bella Gianni parco due arriva il gas marco la nuova zona sicura easy 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 abbiamo l'autoressa abbiamo l'autoressa non è un problema non è un problema taglio di equipaggiamento in arrivo questi recon flyover UAV intervolo non ne pinga mezzo raga sono tutti ghostati buonasera comunque ragazzi a tutti buonasera a tutta la chat come state? raga ma perchè? perchè deve vincere a lui sto fight? restavano meno di 10 nemici ma in base a cosa figa? in base a cosa? ma in base a cosa lo vince lui? figa io non lo so in base al... oh veramente ma che due coglioni raga ma in base a cosa lo deve vincere? ma mi può venire uno dell'Activision in chat a dirmi Don quello lì ha vinto in base a... in base a cosa? minchia bella Alex grazie mille per il like bro mamma mia chat ma puoi morire così? e due coglioni oh punto esclamativo mani aspetta va adesso controllo un attimo che casino ho fatto con lo gm8 che non vi esce ragazzi scusatemi un attimo adesso ve lo faccio apparire a tutti che cacchio com'è raga però ci sta questa classe cosa ne pensate chat? impostazioni dai che sbatto vediamo eh vediamo cos'è che ho cannato vediamo boh fra non capisco UGM raga punto esclamativo UGM in piccolo ciao Andre cosa sta come stai bro? bella giovi Andrea grazie mille per il pollo grandissimo grazie di cuore super Andre bello mio cosa mi racconti ma quando lo studio nuovo la casa nuova che vado proprio con i miei genitori a gennaio a gennaio piano piano vedi vedi che l'ha fatta Mauro e funziona grazie comunque Andre per il like e tino bro le classi esatto raga la classi esatto esatto bella Alessio grazie mille per il like e tino Ale UGM raga e boh comunque Vinny secondo me è tornata la carabina si chiama UMG e non UGM scusatemi adesso lo assistevo ma pardon l'ho sistemato l'ho sistemato provate UGM adesso o UMG come qual è il suo nome che non sto capendo buonasera Alessio mauro bello si fra questa qua è piccolina per quello bro Brian Alessio grazie mille per il like Mauro grazie mille con il secondo mese Mauro grazie di cuore bro adesso adesso va vero adesso funziona giusto no si UG è a posto a posto l'abbiamo sistemato raga no come UMG ma raga come adesso vediamo come si chiama ma avete fatto oh mi fate venire i dubbi Marco non mi dovete far venire i dubbi cazzarola UGM UMG qualcuno che lo sa grazie Mauro per il secondo mese però non so se l'hai fatta tu o l'hai vinta nel caso l'hai fatta ti ringrazio nel caso l'hai vinta GG ciao Claudietto UGM allora è giusto no? cioè allora Vinni mi dici si chiama UGM quello sotto UMG ragazzi vi sto per bannare vi banno riparatevi a dovere cos'è L Mauro? persa? cioè l'hai fatta tu? ah ok l'hai fatta tu sta arrivando tutto attenzione in alto mamma mia se scioglie oh grazie mille Mauro grazie 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 che rompimenti di culo che dà l'arma guerra grazie sasha daniele stefano nicolas grazie a tutti per i like ragazzi vi do un bacio enorme come state? oddio ho movimentato oh mio dio basta avvenarsi affronterete dei veri nemici poi ragazzi questa canna qua ho messo sull'arma guerra c'ha tipo il moltiplicatore di danni alla testa cioè se spara uno in testa gliela fa esplodere la testa sangue 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 yeah but I think that's good man è giusto quindi quello che ho adesso bella Michelone come stai Michi mamma mia il Michele Stura quando entra in chat sempre una bella cosa where are you from Ali andiamo 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 Michi Stura questa live qua è tua perché è l'ultima l'ultima ste questa live qua è tua perché è caldera cioè Michelone è la sua mappa signor Stura grande Michele grazie mille fate piazza pulita dei persiani grazie mille 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 ah ok ragazzi ciao luca grazie per il like e la condivisione stefanone from lebanon ok ok no 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 and where do you find me ali you find me in the home of facebook yeah ciao amici dopo vado a controllare bass hai scelto la fazione giusta bella pensata andato ma vale tutto bene comunque michel fratello o al follower day fra o al sub day gas in arrivo è tornato rabbit facciamo un po di casino in chat un po di casino in chat per il rabbit nazionale che è tornato sia lodato sia lodato thank you elin thank you i appreciate man i appreciate però beh noi siamo su caldera cosa vuol dire ma porco due muori anche no dai oh ma torna venerdì alle cinque e allora oh cos'è che trollate in chat davidone grazie mille per il like bello mio ma no ma per 30 colpi non la carico neanche e invece cioè perché questo e non il bombarda dico io il fiaba fiabona mamma mia il grande simone cocco in chat proprio lui ciao simo come stai bestia tutto bene però easy due kill ma perché si rompe ho chiesto perché perché lo ah ok mannaggia voi ragazzi che ci fate prendere bene il signor esatto l'ha affermato non era una domanda che c'è ciao briscià eh lo so fra però è la più forte bro ti ha un moltiplicatore alla testa Mauro che fa paura ciao Andreone quando finiamo il coaching te la voglio far vedere Mauro perché fa paura fra davvero hai tornato davvero ah ok ma perché quartetti ogni cribbio di volta eh ho capito meglio di niente però boh qua qualche simpaticone mi vuole salire l'ho capito io capito subito ciao Mario come stai il grande Mario c'è un soldato nemico mamma mia oh com'è andato a cuocere con la testa vai vado bella stee ciao Claudietto come stai benvenuto bello mio com'andiamo carichi ciao a te ma un bel party di stelle per il Donfri attiviamo un bel party di stelle proprio di quelli prepotenti non mi inculi a me bro lanciandomi il c4 e ste cacate qua ciao Davidone grazie Ale per le 100 gentilissimo bestia dai facciamo partire questo mega party allora ciao Giulio grazie mille per il like Giulio grazie 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 mille Andre mamma mia l'oscura con le 80 mamma mia mamma mandami un messaggio in privato con questo account Mariolino grazie Michi per le 80 grazie per aver fatto partire il party raga grazie 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 c'ho 20.000 oh qua siamo pieni pieni di debiti dai chat che il party è partito 250 stelle in a testa lo chiudiamo subito e siamo anche in un po' mamma mia enemies in the air request recall bio guavi in servolo mamma mia bella bella Claudio Massimiliano Damiano si su messenger bro don ricco grazie dai chat proviamo a chiudere questo party proviamo non ho detto obbligatoriamente va chiuso proviamoci però grazie stefanone per il complimento grazie raga veramente mi riempite cazzo mi riempite le giornate giuro allora qua si si mi ha insegnato bene hai fatto un bel coaching dai chat chiediamo sto party grazie grazie ma non capisco nessun nemico colpito di questi greco flyover guavi in servolo guarda pietro da la siena bro mamma mia oh non fate spingere solo alessandro bro ragazzi vai con le parti grazie 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 mamma mia stefanone è pazzito con le due mila altre quattrocento grazie stefan mamma mia pazzo veramente what the fuck si è trasformato si è trasformato avete sentito mamma mia grazie stefano grazie a tutti per aver chiuso il party raga vi mando un bacio a tutti davvero grazie 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 vegeta si stava caricando oh l'hai sentito vini ciao salvatore michele grazie mille pre-like ragazzi dai ma buttati apri il paracadute porco due apri il paracadute porco due hanno rimesso rapersi si si ve l'han detto ve l'han detto Ali you hear him he was Dragon Ball you know Goku no no he's Goku Goku grazie Ale anche a te bello mio grazie cuore oh stefissatele però le tue 2000 a mo e scrivi un messaggio guarda che bel paddino viola che hai comunque questo qua ciao uau chi il nemico è sulle sue tracce fa attenzione senso sa di me e invece non sa proprio niente hai visto il paddino viola che figo bellissimo si donna i più di 500 stelle in una botta ma va ma non ne vale la pena ma Donfana cosa stai facendo Donfana ma veramente fino alla stavi andando Donfana Donfana Niccolò grazie mille per lei che tiro di cuore guardalo qua guardalo porca due porca due la prepotenza proprio che non lo molli neanche dopo dopo la roccia non lo molli mai non lo molli la prepotenza ciao Sildi come stai numero uno tutto bene sei il mio compaesano tu come stai bicia tutto bene ho due pure zitto deve stare avete visto come l'abbiamo scatramato ragazzi mamma mia ovvio Sildi io sì beh oddio quanti like raga c'è una nuova ma mi sono arrivati un botto di like tutti insieme c'è un nuovì avanzato nemico tenetene conto ma può essere bello caldo sì bello caldo bella Claudio dai giugno grazie a tutti per i like ragazzi ragazzi c'eravano dimenticati c'eravano dimenticati c'eravano dimenticati a posto ciao Silvano come stai Silvano con la sabbettina guarda che bello salvo grazie mille Claudio Giulio ragazzi a tutti per i like impazziti quanto è quotato che qua dentro ci sia uno puzzavamo di merda puzzavamo di merda io andammi nuovì no santo dio una volta una volta te lo chiedo come sei ma non c'eravano dimenticati ma non c'è manco una cassa in giro ci fa ridere la situazione la situazione è molto precaria ecco fine scansione in uscita allora grazie Silvi per le 145 grazie di cuore davvero grazie ultimo schieramento quasi pronto manca poco eh speriamo gas in avvicinamento nuova zona sicura loggio di equipaggiamento alleato ma dove Silvi in Albania o in Italia di dove vuoi sapere di dove sono grazie mille Claudio grazie mille bro in tre giorni pensa a te che bello Antonio grazie mille per i like Sebastiano grazie mille per la diminuzione però mamma mamma minsi babina scappare gas in movimento ma io c'ho silenzio di tomba piano piano vado a prenderlo bombardamento di precisione nemico giù bombardamento di precisione nemico giù grazie mille grazie mille bella matti grazie per il like mattione marco due attacco a trappolo nemico al riparo alla nuova zona sicura gas in arrivo è già tornato non devi volare no way no way ti restavano meno di 10 ho fatto una cazzata raga ho fatto una cazzata enorme fai niente dai fai niente dai dai andiamo avanti sapete perché ho fatto una cazzata? perché io in quella classe pensavo di avere pensavo di avere come si chiama hai visto eh l'abitudine Sildi l'hanno messa l'hanno messa pensavo di avere tempra in quella classe tempra no? invece non avevo tempra quindi sono andato lì regà e per niente perché non avevo tempra in quella classe pensa che roba porti in sping no no volevo prendere tempra io Luca volevo prendere tempra volevo prendere tempra però vabbè dai fai niente cioè alla fine era un bel game però volevo vincerlo sincero ci tenevo a vincerlo giuro ci tenevo tanto a vincerlo però fai niente eh vabbè Matteone cosa devi fare era end game lo capisco capito cosa li puoi dire niente non ne fai a Rebirth eh faccio ciao Gianluca Riccardo grazie a tutti sei un bot hai ragione è vero raga che a voi piace Rebirth da pazzi andiamo a votazioni chi vuole Caldera chi vuole Rebirth poi io conto e se sono più Rebirth facciamo più Rebirth se sono più Caldera facciamo più Caldera la votazione parta da adesso scrivete un solo messaggio non che fate Caldera 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 solo voi Caldera un messaggio vai vi conto io Rebirth Rebirth Caldera Rebirth grande Nicolino Fabrizio grazie mille per i like vai vai andate avanti andate avanti c'è Rebirth Rebirth vai Rebirth e che cazzo li devi dire la chat se c'è la Rebirth andiamo su Rebirth aspettate che cambia un attimo il titolo della live allora anzi no dai va bene va bene va bene così che cazzo andiamo ragazzi allora sulla nostra mapa perché due subito subito con la nostra classe arma guerra e car 98 mamma mia che voglia di far casino che c'ho su Rebirth caricatemi un po' per favore ragazzi caricatemi mamma mia scrivetemi qualcosa che mi carica che mo prendo il monitor e lo lancio ciao Andreone grazie mille per i like porco due mo lo spacco tutto il monitor ciao ragazzi ciao hi hi salam aleikum ciao eeeh eeeh in porco due devasto tutto Fabrizio la questa è la classe della morte cazzo e mo ve lo faccio vedere bella Francescone grazie mamma mia ragazzi Francesco Panetta cognome scomodo e comodo dai dai fai i numeri a casa tua dillo ste cazzo dillo te lo farei te lo farei scrivere hai risolto ma sembra un po' meglio ora bro non so Gianluca sembra meglio raga ciao elio mamma mia sto sto carico raga porco due don un ganja andiamo 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 porco due andiamo porco due voglio spaccare tutto con sta arma guerra qua che fa i buchi pezzo di merda fai i buchi quest'arma guerra hai capito pezzo di merda mamma mia quest'arma guerra fa i buchi pezzo di merda Alessandro grazie mille per il like che tiro bello amico benvenuto bro basta scherzare inizia la vera battaglia vai buttatemi su quell'aereo cazzo che voglio impazzire mamma mia hai i mani schifosi sti qua Fabrizio Gianmarco grazie mille per il follo Gianmarco non mi pensare che sono sempre così ogni tanto sono anche sano te lo giuro Gianmarco bella Stefano Caprile Emiliano grazie a tutti per i like grazie raga punto sconativo a Roma Guerra Ale perché se non è in chat non lo uso neanche di denaro in arrivo giorno di paga gente gli alleati caluti lo sono rischierati che rimane ma dagnate punti per farli tornare prima fate piazza prima dei terzai hai scelto la passione giusta bella pensata vai cedri cedri ti schiazza sei la leg di rampremio qua vieni a scendere Claudio ciao Marco Ivan Emiliano come state ragazzi tutto bene vai don't die tutti però don't die tutti parco due qua uag lo tiro solo io un team nemico si sta braccando un tuo alleato è appena rientrato lancio di equipaggiamento alleato muoviti muoviti make wav make wav porco due wav you know what is wav lancio di equipaggiamento alleato ma non cazzo davidone buonasera bello mio come sai hai visto Matt se non c'è il movement neanche giochiamo rimangono 24 nemici uccidili tutti i rinforzi sono in arrivo dammit i rinforzi 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 mamma mia cosa li faccio a sto lobby ma questi non li han capito ma li han capito li han capito che sto per impazzire sto lobby dai muoveci nice g nice troppo forte sei numero uno due ore così sei mitraillette qui non è ancora finita no porto lancio di equipaggiamento alleato grazie braunio e il gas si avvicina nuova zona sicura per voi no no non lasciami stare bro ma vai mi devo lasciare stare fra ti piacciono la faccia scendi muoviti sta arrivando un nemico attenzione in alto ma non salire cazzo sai che sono lì grazie davide per il pollo quello mio mattino leonardo grazie a tutti sai che ma vabbè ma le parole l'anno prossimo le facce ma tanto ma ti devi buttare non fare niente non fare niente sono un drago non ti lascio caputtana che sbatta sono morti tutti da questi barbagianni qua vabbè primo game 10 kill ma fa schifo non è da donfana primo game deve essere 25 kill almeno se no tacchiamo la live subito biaggio grazie mille per il like e tiro bello mio come stai biaggio ma mamma mia il biaggio nazionale col dieguito floris nazionale grazie ragazzi per il like mirko grazie a te number one mamma mia ma sapete che proprio voglio entrare nella god mod proprio cioè sapete quando proprio non mi devi intoccabile proprio così in quella in quella modalità lì mi piacerebbe entrare nella god dei mod silvio grazie mille per il like anche a te bello mio buongiorno fatti sentire in chat qua continuano a scrivere che cazzo volete tutto bene Lori tutto bene tu cosa mi racconti bro tutto bene cos'è che fai di bello ho una morra grazie anche a te bro ma fra ma io l'anno prossimo piuttosto non parto fra piuttosto non parto per fare le world series ciao Raffaele grandissimo per forza Lorenzo scusami bro hai ragione avete ragione bravo Matteone solo uno ce n'è fra gli altri tutti fake fake buonasera Mirko tutto bene tutto bene tu bro cosa mi racconti cosa fai sei in forma sta arrivando un nemico attenzione in alto grazie Mauro grazie per la condivisione bestia grazie di cuore Miguel Mauro sta arrivando un nemico attenzione in alto basta allenarsi affronterete dei veri nemici sei in grande Yuri hai ragione hai ragione ritorno tutti nella zona sicura il gas si avvicina rapidamente ora vivete per far rischierare i caduti e accumulate punti perché tornino più in fredda uccidete i nemici senza che lo facciano loro sta arrivando un nemico figa raga cosa posso fare io più di così allo start nocco due ho pure questo qua mi devasta vabbè va bene va bene ma tanto un loadout mi serve a me perché poi vi per culo ho una kill me l'ha data ritorni in campo forza va e vendicati tour di comunicazione attiva presentiamo le minacce si accogliamo tra noi sempre iniziato troviamo nuovi giocanti esplosioni dal davanti dal dietro lasciate stare il donfana make loadout make loadout make loadout bella davidone come stai bestia tutto bene bestia perché fai quartetti se stai sempre lontano dal team eeeh lori perché non riesco a stare alla velocità del team grazie Ivan per le cento bello mio grazie mille benvenuto Ivan come andiamo più cazzo voglio una mezza e mi dio grazie a te per il like number one anche io Salvo, come stai? Cuncciolo Porco due, oh Però perché gli altri Vabbè, Yuri, è giusto Bisognerebbe stare tutti insieme Però ho capito, sono un tryhardone Cosa devo fare? Davide, Savuele, grazie mille per il like, ragazzi Puttosca Dai, bravo, bravo che mi segui Stefanone, l'importante è seguirmi Bravo 101 giorni, poi non è male Tutto bene, tutto bene, Savuele Cosa mi racconti? Com'è andata il lavoro? T'hanno trattato male? Devo tirare qualche schiaffo a qualcuno? No, sto scherzando Di più, di più, Stefanone, più giorni Mi vedo Oh, qua Mi sono mangiato i colpi Cioè, fai sempre più paura, brother Grazie mille, Fabrizio Grazie di cuore Ragazzi, però dovete supportare il Don Almeno un like per dire Sera Passate a lasciarlo Se volete che il Don Un domani sia Uno streamer di un certo livello Insomma Luca, grazie mille per il like Fabrizio, grazie anche a voi Anche a te, bello mio Un like, ragazzi La sera Io adesso magari vi metto degli orari Di streaming Così la smettiamo Di streamare a cazzo di cane Che dite? Mettiamo degli orari? Bella Di Dumitru, Lorenzo, Vincenzo, Simo Grazie a tutti per il like, raga Vediamoci qui Esatto, esatto Per quello non li sto mettendo ste Perché voglio metterli Che so che li posso rispettare Capito? Oh no Che sta così o no? E' un po' di casino Che sono incazzato, nero Sono incazzato, nero Veramente Sta arrivando un nemico Attenzione in alto I rinforzi sono in arrivo Che cazzo sono? Scusate Dove cavolo sono? Non importa Non importa Cosa? Conosciammo? Che cazzo vuoi? Mekuav, Bobi Smurda Ciao, Angelone! Mamma mia Come stai, Angelo? Pure la alinta Ciao Dumitru, come stai? Bestia, tutto bene? Membro della squadra in rientro Bravo Pasquale Tagga, tagga Pasquale Perchandolo hier Regroup the station UAB intervoli Marano Sarco Autonomia UAB Sono sotto attacco No Wage Ciao Pasquale, Angelo, grazie mille Prilai, Cali, fatti te tiro E' un po' che non ti sento Ciao Marcolino Che badge, Samu, ce li hai tutti Da moderatore, eh, Fra La romperei tutto qua, veramente Grazie, Domitru Cos'è che mi racconti? Vediamoci qui Bella, Giovi Grazie mille, però Tutto bene, tutto bene Oh, Samu, ma fortissimo Ne ho fatto uno fortissimo, veramente Non è ancora finita Ti saluto Ciruz Ti saluto Ciruz, fai paura, grazie Ciruz Come stai, bello mio Sì, Marco Marcolino, con la sabbettina 5 euro al mese Puoi giocare due volte a settimana col Don Che diventeranno tre E poi magari puoi pure fare le private Solo pre-sub Cioè, Marcolino Eh, se ci tiene al Don Eh Grandi, Domenico Grazie mille per il like Rosario Francesco Fabo Dove stai, papo, grandissimo Ricassi, è quasi addosso Dorata da prendere Beh, Domenico, comandiamo Luca, grazie a te Di bro, per il like Così va pure il sole Eh, da Dorata da prendere Mi attacco Nooo Che due coglioni Quando fai to con uno Due E poi arriva il terzo Sembra che proprio si chiama Bro, bro, vieni, vieni Mi sta fightando Bro, bro, bro Bella, madonna Non ti lascio morire Peccato, cazzo Se erano due Gliela facevo, raga Se fossero stati solo quei due Gliela avevo fatto il movement, regà Ma di brutto anche Questo c'ha la mira Di una scorreggia Di una scorreggia tipo Già scorreggiata, capito Grazie, Gabri Bella, Pasquale Grazie mille per il follow Big bro Benvenuto, Pasquale C'è una cassa di scorte Andate, andate a pregare Mamma mia che Nox è preso Secondo me è la voglia di Ti sei soltanto Oh raga, mi ha lasciato da solo Sti pezzi Grazie Sì, Pasquale Michele Giuseppe Grazie a tutti Per il like, ragazzi Il gas si avvicina Nuova zona sicura per voi Il gas è sempre più vicino Sì, Pasquale Mamma mia Mamma mia Ciao vacca Tutto bene bro Tutto bene Tu come stai? Mamma mia Regà Mamma mia Volevo fargliela qua Hai ragione Dimitro hai ragione Qua volevo fargliela E male male Fra, c'avevo davanti Un esercito Fra Ciao Arba Arba, grazie mille Per il like Come stai? C'avevo un esercito davanti Dai, non scherziamo Signor Samuele riga Perché due porchi Perché due porchi Perché tu fa così Samuele Perché? Ciao Filippo Grazie mille Per il like Filippo Molto malissimo Allora mo la vinciamo Solo per dare Samu Ciao mamma Non lo uso l'h4 io bro Uso l'arma guerra Alessandro Nel caso Fai punto esclamativo Arma guerra E trovi tutto In chat Ma non è vero Ma non è vero Una volta c'era Le lobby più easy Magari Quello si Ma non è vero 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 Che bastarde Samu Ha arrivato un nemico Mamma mia La svalho è fortissima Però lutavo anche io La svalho Lo usavo anche io Claudio Troppo forte Ciao Anne Sfili Davide Agostini Grazie a tutti per il like Davideone Come andiamo? Buonasera Bello Buonasera Ritorno Attenzione al gas Andate nella zona sicura Ci siamo Sopravvivete per far rientrare i compagni uccisi Ottenete punti con le vostre azioni Per farle tornare più in casa Per fortuna sei dei nostri La priorità è uccidere tutti i nemici All'attacco Cerca di coprire le tue tracce Sei la preda di un team nemico Ma ho col due Mamma mia Un altro team Se era un altro team va bene Se era il suo compagno impazzivo Ciao Michelone Buonasera Mello mio Come stai Michi? È un po' che non ti sento Come già 32 Ma what the fuck Non è ancora finita Tutto bene Erly Tutto bene Tutto te faccio Cucinato Come combinato Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Ricerca iniziata Scoviamo nuovi giocattoli Chiudi gli occhi Amma mia Sempre il terzo Sempre il terzo Sempre il terzo Buonasera Vuoi tornare in casa No Stato con il perdaglio Grazie Erly Bravissima Giusto 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 Soldato Rimani soltanto tu Mamma mia Mamma mia Brutte partite Ma perché non mettono le solo? Però nel lavoro Non siamo la prima Grande Michi Grandissimo Cosa mi racconti? Come va il lavoro di gommista? Meglio? Stavamo perché ti voglio così tanto bene bro Perché? Eh? Come vai? Dimmi un po' Lo sai te perché? Pezzo di Di cacca Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Ma va? Ma? Minchia Chi dice No esatto Ale Non esatto È un macello bro Ti voglio tanto bene È un macello Un macello Minchia fra Bordello Ciao ragazzi Ciao Come state? Tutto bene? Ciao Tutto bene Ciao Ciao Non so dove sono gli altri due Non li sento Alcuno Ho appena sentito E invece un demolitore Non lo sento È andato a fumare Ora torno È fumatore Accanito Oh raga Vi muto Perché sono in live E non mi va di darvi fastidio Va bene? Ok Ho capito Sull'elicottero Non sento quasi nulla Sono in live E mi muto Così non vi do fastidio Ok Va bene Basta che ci senti Tu a noi Sì No Non mi senti Sarebbe buono Sentirci Cerco di mutarmi Dai Cerco di mutarmi Vai Buttarmi Smutarmi Ciao Angelo Grazie mille Vrilei Che tira Angelo Ajo Angelone Per far rientrare I compagni uccisi Con tenete i punti Con le vostre Per farmi tornare Se vinciamo Passate a lasciare Un follow su Facebook Andate Però in grande È un miracolo Di sopravviviamo Come ti chiami? Riccardo Non ti chiami Non fana Non fana Non d'arte È un po' tardi Fra Perché? Sei morto? È perché ci siamo buttati Già Sono qua Dove Sì Assi Non vi sento tutti Corazza Allora Donvana Sta strimando Quindi si usa Perché Se lo dico Ci va a fastidio You are so fucking lucky mate Fatelo Fatelo Bello mio Grazie di cuore Grazie 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 Salvo Se tu salvo Salvo È la Di Se tu vuoi aver seguito su Facebook Sì Grazie Grazie mille Nulla Che salvo Qu'attenmoniai Ho Con況 Deve Solli 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 Qui Arriba Sto sopra qua c'è uno qua sopra ancora 23 metri forse il testo o è sotto sotto, sotto, corrido io a, che chino a terra grazie mille per le 50 finito ok perfetto oh andiamo grazie grazie è lì e lì un po' di sopra io ce n'è uno di sopra io non conosco questo attraverso una grazie oh domenica di tutti vabbè anzi non so se non mi sento arrivano altri a terra d'uno salvo come senti una mano una mano ecco ho visto visto è da contro quello che vi rompe ragazzi ci sparano da contro lo sentite? si si che ne è uno da te? pavo non mi sente penso ma da dove ti ho sparato? è lontano da sopra poverino poverino non mi sento questo no stiamo uniti occhio sopra atterrato atterrato da sinistra da sinistra ce ne sono un botto ve ne arrivano gli ho finito tutti io mamma mia quanti sono raga porco due un convoglio vai via vai via bro sei l'ultima sei immortale sei giuro un'altra opportunità per fare la differenza c'è l'altro oh gente sicuro non ti sento sto subendo il fuoco nemico oh ma che cazzo è mamma mia che ne va a sto a questi oh è tornato ai ciumi col cecchino nell'allatore guarda sono morto mi vingono da dietro da dove? da qua vado qui parca troia non la avete piastre? ananna qua dietro piastre bimbi ammi i soldi o piastre? eh no no niente eh soldi salvo non lo sento salvo safe salvo safe riuscire a prendere io salvo non lo sento ma vaffanculo ma vai fate cagare il cazzo va mamma mia oh sempre uno che ti mira ma perché vedete cos'è la cosa noiosa che ne fai due in un modo figo poi arriva al terzo da casa di suo padre e ti fa cioè non è bello capito? però vabbè fa niente ci sta il gioco il gioco è un gioco ritorni in campo forza va e perdicati un tuo alleato appena rientrato una gattra c'è una corazza da prendere ok ok è morto gli altri che sono qua si ti dà da tutti c'è un soldato nemico occhi aperti la finestra di ritorno sta per chiudere diciamo no cerchiamo di riconoscimento sopra l'inocchio c'è uno Sì, eh, vieni che era lui. Ma ci abbiamo fatto, saliamo, abbiamo di supporto, solo in mezzo a 3. Ne sono uscito, ne sono uscito! Oh, ma tu è qui? No, no, no! Cecchino! Ah, casa grande! Alla torre! Oh, c'è la torre, la torre è piena, eh! Niente, Ale, non hanno capito niente! Speriode è nero! Colpito! Ma c'è stato grande, ciò, che cazzo di cicchini! Ve lo prendo io uno, a casa bianca, aspetta! Aspetta, forse lo sto prendendo! Ok! Diviamo a destra, diviamo a destra! Verso la casa grande! Taccato! Taccato un altro! Rasa grande, Viena! Ottimo effetto! Un altro! Non mi viene mai mai! Si, si... Andiamo qua! Avanziamo insieme, venite! Niente! Libero, andiamo nell'altra! Uo, avviene, Mico, attivo! Mi hanno sparato, era da sopra! Qua c'è il pallone! Quello che hanno messo il pallone! Libero anche qua, andiamo nell'altra! Chino! Sopra! Sotto, sono sotto, sono sotto, qua. Bravissimo, bravo, bravissimo. Gli altri sono su... No, va. Puoi scendere anche da sopra? Sì, uno l'ho messo a terra. Qua, qua. Divico dietro di noi, insesora. Grazie, a questa gala, a questa gala. Confermo la posizione. Atterrato dall'altra parte, senza capire lo volesse. L'Azzurro, c'è gente. Il tipo che ho appena ucciso fa, questo citta. Grazie per il complimento, Ammo. Salvo, ce n'è uno qua sopra. L'ho appena atterrato. Non so se ancora io. Può essere interessato. Allora, io farò... Qua sul tetto è un bell'ero. Noi c'è lo shop, tipo. Bravi, bravi, bravi. È uno alla mia casa. Guardate il pingiallo. Dove sono io lo sento. Salvo. Salvo, mi segue, Salvo. Che c'è? Che c'è? Dai, guardate... Così ci altro? Eh, sì. Il pingas è sempre più vicino. Into the safe zone. Ho uno che mi insegue. Ci vedo sopra la mia testa, ragà. Sì... Punto dietro stagini. Guardate il pin giallo raga, guardatemi un attimo per favore Noo bastardo Arriva il gas, Marco la nuova zona sicura Ciao Elia, Daniele, Dennis, Rino Ciao a tutti Ah, dai Sono due team raga Eh, là sotto ce l'hai, sotto sotto Si, l'ho visto, l'ho visto sotto Mamma mia da qua Ce l'hai dietro, muori Eh, mamma mia Sono due, ragazzo Perchè delle cose Bella Adesso, venite a mettere un follow well done, però, eh L'avevano detto, l'avevano detto, l'inizio, eh Dai, dai Si, 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 ci sta Sei forte, sei forte, ragazzo, sei forte Sei forte, forte Vavolos, eh Spam DGG chat prepotente, porco due Spam DGG Bravi, bravi, raga, bravi, 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 bravi Devo essere sincero, era tanto che non mi capitava di vedere uno così forte No, grazie mille, però Grazie mille Bella Ragazzi, vi saluto Vi ringrazio per la winnotta Passate a lasciare un follow Tanto, ehm, salvo lo sa come mi chiamo, mi ha già seguito Quindi, vi saluto, raga Su Twitch, no, bella No, su Facebook Su Facebook, va bene No, no Ciao Ciao, raga Ciao, ciao Ciao, 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 ragazzi Mamma mia, Federico, Michele, grazie a tutti per i like, ragazzi avete visto che winnettina che gli regaliamo ai ragazzi Ci sta, ci sta, son contento, mi piace Allora Il mio cane che rompe le palle, ma voi tipo quando il mio cane abbaia, lo sentite? Cioè, tipo adesso sta abbaiando L'avete sentito? Oh, winnotta comunque è bella prepotente, c'è da dire, eh Ciao, Gabri, Federico, grazie mille per i like Ragazzi, siamo ottenuti oggi tanti like, giuro, son contento Posso dirlo che Facebook mi sta rispammando bene? Grande, Shanna 20 bombottini easy, è normale, normale Nel comfort Nel comfort, no? Buonasera, Gabri Grande, salvo, grazie mille per il pollo, bro, sei il ragazzo di prima, vero? Hai ragione, hai ragione Zona comfort Zona comfort Sta arrivando un nemico, attenzione in alto Poverino Basta scherzare, inizia la vera battaglia C'ho ancora mal di guomito, che cazzo, raga Ritorno Per zona di lancio amiciato Bene Marca un punto di lancio per il... Dovrei girare lì Ormai il gas è troppo vicino, alla zona sicuro Mi fa un po' male, Sam, sì Soprattivete per fare rischi a rai E accumulate butti perché tornino più in presa Ma è fanculo Divaccio il lucky man, trust me La priorità è uccidere tutti i nemici All'attacco Abbiamo un altro eroe in squadra Ma li sistemo io Nemico avvistato Che vi portiamo in prima linea, danni dentro Pezzo di merda E' un hop che ti vede lui Mamma mia, non dico niente Mamma mia Mamma mia, giuro, mi auguro che... Vedi qua avvistato Non è ancora la vita I rinforzi sono in arrivo Che roba, eh, bro I rinforzi sono in arrivo E' iniziata, scopriamo nuovi giocattoli E' iniziata UAV, il nemico attivo Questo è un traietto Fine ricerca, drone in rientro Che miraccianno sti fenomeni di sta minchia Il rimarco dei medicinali Ma figata, dov'è che mi spara sto dito nel culo? Ma dove? Mamma mia, può guardare me Mamma mia Poi quando c'è gente sulla torre Non li calcolano Neanche per sbaglio Mamma mia, oh Mamma mia, vado io su un attimo Mi spara... Pure... Il creatore di rabbit mi spara, veramente Che mi portiamo in prima linea Dacci dentro Ventolo della squadra in rientro Bela, Jacopone, Andrea Grazie mille per il like, ragazzi Mi portano Mamma mia, tutti... Oh, ma tutti incollati siete? Megabeppe Mamma mia, vanno in giro Con la vinavil, con la vinavil UAB alleato in volo Dategli la calza Risparano Appure un attimo All'allato in allie Vai che ora arriva lo dautli Sistemo io Ti riportiamo in prima linea Dacci dentro Faccio gli equipaggiamento alleato Non vuole Ma basta Ma come ho fatto a prendermi, raga? Tieni gli occhi aperti Com'è che devo aver fatto a prendermi? Mi chiedo io Cassa di scorta è disponibile Ciao Tatiana Come stai? Tutto bene? Alla nuova zona sicura Gas in arrivo Va arrivando un nemico Attenzione in alto I'm taking fire! I'm taking fire! A presto C'è un soldato nemico Tu ami nemico attivo Tuo aliato appena rientrato Come stai Fraggy? Tutto bene Un po' che non ti vedevo State combinato di bello Questo testaglio è un nemico individuato Contratto confermato, chiediamoci da parte Disponibile Ci sono i traiardini che avevo appena visto C'è un soldato nemico Cerca in corso, gli auguriamo l'attrezzazione Dai, guarda che schifo Fine ricerca, drone in rientro Grazie per avermi guardato, amore mio Torre di comunicazione Trasmettono la vostra posizione E' a voi, sniper Clippate, chat, clippate Clippate, chat, per favore Avete corazze da darmi? La giù c'è una corazza Eeeh Eeeh Mamma mia Mamma mia Lorenzo cavolo Mamma mia che lobby Dai con la M16 bro 2022 Eh sì Claudio Ciao Nicolino L'ho un po' forzata Sì sì Nicolino tutto bene bro? Ciao Non è ancora finita Altima allerta Torna sta per finire Parti suono in arrivo Laldi termini Prezzi tornati alla normalità L'ho un po' forza Non è ancora finita Per e la costata Non è ancora finita Trasera Ahi Ma mamma mia Ma questi li stavo trombando raga Ma questi umiliati eh Ma raga Cosa li stavo facendo a questi raga No raga poverini Giuro Se mi usciva quello che volevo fare Porca vacca Che roba giuro Ci sono rimasti male Dite raga Ma smettila Fai un complimento ogni tanto Pezzo di cacca Andrea grazie mille per il like e tino Bestia benvenuto Andrea come stai tutto bene Grande Tony Gaspare grazie a tutti per i like ragazzi Grazie di cuore Lascia un bel follow Tony Te lo l'hai già fatto Ragazzi controllate se avete già messo like alla pagina del Don Una cosa al volo Non dimenticate Ciao Carlo Tutto bene Tutto bene Tu come stai compatto? Tutto bene Bella Davidone Mai Arrivando un nemico Attenzione in alto Grazie a tutti Cavalessio Grazie anche a te Abri like Grazie mille bro Grazie 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 Andre Andre come stai Come stai? Spero vi passi più Quas Che altro Stia avanti Vabbè Carlo ci sta Sono momenti che Tutti passiamo bro Non abbatterti mai bro Che sei forte Ci sta Sono momenti che tutti abbiamo Non sei l'unico Dai ma non Sulla zona di guerra Ho fatto Dove giochi Tony Vabbè ci sta Serie X Vabbè Da caldera Però Cioè Su caldera Strano che non ti si vede Però Serie X È la ultima Xbox Per il team Mi guiderai tu Il gas è troppo pericoloso Correte verso la zona sicura Sopravvivete per far rientrare i compagni uccisi Ottenete punti con le vostre azioni Per farle tornare più in Fate piazza pulita dei bersagli Un soldato nemico Alta di scorta identificata Non penso Sembro della squadra Mamma mia Eh ormai Mirko non tiene più la P4 Ragazzi Ah Vincenzo non tiene più Comunque Mauro non ce l'ho al set del chilo Lì così Col punto esclamativo Non ce l'ho ancora Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Questo è qua con l'RPG ferro Ma sei un caino Guarda neanche lo noto Ah mi hanno colpito No Mario Portiamo in prima linea D'azienda Entro della squadra In rientro Buona serata Ale ci vediamo domani Grazie per tutto Grazie 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 Tua mamma che lavoro fa Hai visto Mauro Troviamo comunque una donna che trovi Ah beh allora per quello Ciao Vincent Come stai Nico grazie a tutti per i like Raga ma questi Che cosa stavano per prendere Senza piastre Senza niente Stavano per prendere un bel pisallone Eh esatto Andre Ma oltre a quello La console play 4 Ormai non va più bene Grazie Tony Fu tuo alleato appena rientrato Ti riportiamo in prima linea Dacci dentro Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Torre di comunicazione attiva Trasmettono la vostra posizione Hai scelto la passione giusta Dove Mauro dove 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 Dimmi bro dove Secondo te dove Non è ancora finita Identità del bersaglio confermata No ma c'è io C'è io Però Il problema è che quando poi ci gioco Mauro Non mi tagga la chat Capito? Eeeh Ricerca in corso Miglioriamo l'attrezzatura Forti sono in arrivo Arrivando un nemico Attenzione in alto Guarda qua che proagine Guarda qua Cos'è che dice Cassa di scorte Esatto bro esatto Ora sei in movimento Due Con tre Proprio vinci tutte Beh la tia Grazie mille Pre like Marco ciao a tutti Ragazzi raga Tracking enemy Si stanno a cogliere Oh ma mia Sempre in tre Ma avete cagato Il cazzo Ma avete cagato Ciao Gabriele Grazie mille Per il like Mamma mia Che noia Che noia Figa Ma io gioco 1v3 Ma cosa che gioco Figa che noia Sempre lì Sempre lì Bravo Questo se gli do il joystick A mia nonna Te lo giuro Spara meglio Giuro Con due Spara molto meglio Se gli do il joystick A mia nonna Mamma mia Shanna Pazzo Shanna Con le bille Oh C'è la prima volta Che dona stelle La prima volta Entra così Sio Shanna Grazie mille Bro Sei pazzo Giuro Sei pazzo Scatenato Mamma mia Grazie di cuore No non è per quello Andreone Perché i compagni Alla fine non li conosco Capito Cioè Cazzo me ne fotte Però Quando vado a fightare Cioè non penso che girano così Due E due dietro Capito Penso che magari girano Si vicini Ma non incollati Capito Questi però Sono incollati Raga Mamma mia Shanna Grazie mille Per le mille stelline Grazie 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 Ma stai scherzando Grazie mille Ciao Giuro Signor Shanna Ma hai lasciato senza parole Sai cosa vuol dire Che hai lasciato il don Senza parole Queste mille Mi hai lasciato senza parole Beh l'angelone E le Mohamed Come state raga Tutto bene Nemico in arrivo Nell'area Capito Esatto Esatto Dalla Fabio Buonasera bro Ma tutto bene Angelone A me è tutto bene A te invece come ti va bro Tutto bene Cosa mi racconti L'angelone C'è un soldato nemico Porco due Che capocchiata Basta scherzare Inizia la vera battaglia Ciao Federico Grazie mille bro Dai dai Angelo Te le faccio vedere Comunque Oltre alle mille Shanna Ti ringrazio anche per il messaggio In cui Che c'era scritto dentro No Sei uno spettacolo Grazie mille bro Grazie 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 Ritorno Indica un punto di lancio Per il team Attenzione al gas Andate nella zona sicura Destinazione marcata Sopravvivete Per farvi entrare I compagni uccisi Ottenete punti Con le vostre azioni Per farli tornare Più in fretta Indico in arrivo Nell'area La priorità È uccidere tutti i nemici All'attacco C'è poco tempo Andate alla meta Contratto riuscito Complimenti a tutti Sì E com'è Com'è Ci sta Buon nemico attivo Lancio di equipaggiamento Per voi Facciamo che due Lo d'out Sono sempre meglio di uno Dai Lancio di equipaggiamento Per voi Che live guardavi bro Che live guardavi Non invidio i tuoi nemici Non invidio i tuoi nemici Non invidio i tuoi nemici Bombardamento di precisione nemico Li puntano Bombardamento di precisione nemico Mamma mia Ultimi 25 Questi qua li volevo combinare bene Ciao Danny Grandissimo Come stai? Danny Brotins Mamma mia È il Brotins Proprio lui Come va? Voglio l'attacco Prendete quei colpi Di piccolo calcio Andiamo a rifaglielo Noo Scala bello Tutto bene Tutto bene Tu come stai bro? Tutto bene? Ah ma torno però bene Bene proprio incazzato Mi sono rotto la minchia Tutta la grandissima Grande Oscar Sono contento Come è andato il lavoro ragazzi Oggi tutto bene? Non ricordo Non so che appena avete Guardate che è grande Fede Grazie Ele Per il complimento Grazie mille Io voglio andare là A fare fuori quelli Buon tuo alleato Appena rientrato Il tuo alleato È appena rientrato Avete rotto il cazzo Tutti incollati Mamma mia Ma che sfigati Che sfigati Si può dire Mi bannano Se gli do degli sfigati A questi Mamma mia Incollati La colla Vinaville 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 Vieni a fargli la sponsor Ai ragazzi Che sono sempre incollati Vieni Ci ammotrano Eh la Francescone Tornei No tornei ne faccio bro Ne faccio Questa settimana Ne sto già cercando qualcuno Poi hanno tolto le private Stavo aspettando quello Andrea Simone Ciao a tutti raga Allora mi sono Ancora Ma muovi de vasto Io muovi de vasto Ti freddo Sono albanese Io bro Esatto Ancora lui ha detto Si c'è ancora io Muovi de vasto Ma hai capito Forse ma non hai capito Che vi vai Si sono in arrivo Paco due incollati O con la Vinaville Strano che era lontano Degli amici Strano Destinazione E mi è capito Vediamo Vediamo Eh forse lo veste Ma va non mi va Vabbè dio Però sei qua Sei cagato il cazzo Mamma mia Fermo qua Così Qua guarda Davide Come stai Mamma mia Davido Come stai Tutto bene Grande Dai Mastro Swiffer Stai calmo Hai ragione Ragione Come stai Davido Grazie mille Per il like Bro Comandiamo Grazie anche Per le 500 stelle Fra Grazie 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 Davvero Grazie 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 Pazzi 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 Davvero Cosa mi racconti Davido Tutto bene Bella Carlo Grazie anche a te Per il like Bacchettino Bessia Porca vacca Incollati Raga Alcuni Sono proprio male Alcuni Li devi insultare Non puoi farci un cazzo Li devi insultare Alcuni Grande Luca Grazie per la condivisione Numero uno Benvenuto Bello mio Grande Lucone Come andiamo Assurdo Tutto bene Davido Tutto bene Dai Cosa mi racconti Bro Come andato al lavoro Oggi Bene Io Io Guys Grande Andre Grazie mille Per il like Perché cosa fai Non può salutarmi Riad Ma questi qua In lobby Grazie per la condivisione Bro Preparate l'attrezza Vai Dimmi davidone Dimmi tutto Dimmi tutto Dimmi tutto Lavoro e bimbi Sembra indaffarato Ci sta Lucone Però i bimbi Sono una bella cosa Anche a me piacciono Lavoro poi Per forza Quindi insomma La vita Dai la vita Grande Nicolò Grazie mille Grazie mille Per il like Bro Dimmi davidone Benissimo Primo giorno di lavoro Della settimana Io ero in ferie Ah ok Ok Hai cominciato oggi Vai Chiedimi tutto Primo Primo Esatto c'è La vita Grazie mille La condivisione Patrick Lorenzo Come state Raga Un po' che non vi senti Patrick Bello mio Da quanto non ti sentivo Bella Patrick Come stai Perchè si è entrata Non lo so Come al solito Bello il gioco Sette giorni Ma sono già passati Che roba Ciao Fabrizio Adesso ti rispondo a tutto Provo Ah lo so Per farle tornare più in fretta Nemico In risponde Uccidete i nemici Senza che lo facciano Loro Ah lo so Massima Attenzione Come stai Un nemico Ti sta dando La calma Contatto Oh my god Oh my god Oh my god Oh shit Allora, aspetta Allora, allora, allora Mi metto un attimo in full camera Sta esplodendo lo stomaco Cioè ho fame Allora, Davidone Per le tue domande come hai fatto Aspetta che le leggo Allora, la slingozzata te la do Poi i capelli Li devo fare, bro Sinceramente sto aspettando Il 20, Davidone Che mi entrano i soldi Così vado a farmi bene i capelli e tutto Fai il nome di Trucio Baldazzi Il nome di Trucio Baldazzi non glielo ho dato, Davidone Perché ho ancora un po' Il dolore del gomito del tennista Non riesco a fare Bene, bene questo Vedi, l'ho fatto Ma non riesco a fare Ciao, bello mio Ma che sto staccando, bro? Ah, sto staccando? Sì, sì Guarda che giocavi No, no, bro Vai mettere il party porca puttana Allora E quindi non sono andato a comprare la freccettina Perché tanto non lo picchiavo Davidone non gli ho dato il nome Domani però vado a prendere le freccettine Domani sera glielo diamo Con i sabbettini E gli sticker C'avevo L'editor Cioè L'editor C'ha sua mamma Che sta male È in ospedale Davidone Mi ha chiamato Mi ha spiegato la situazione Gli ho detto Bro, quando hai tempo Family Ormai non è che Eh, beh, la Mike Che cazzate che dice Samuel Erika Comunque, regà Io vi saluto Mi vado a mangiare qualcosina Perché è due orette Che siamo qua Magari dopo Sul tardi A mezzanotte Così magari torno Vediamo Magari una notturna Anche se non mi caga nessuno La notte Non mi caga nessuno In generale Però, vabbè Vi saluto, regà E grazie per essere passati Ciao, Davidone Samu Eh, vediamo chi c'è in chat Patrick Ciao a tutti Oscar, Luca Riad Ciao a tutti, ragazzi Federico vi mando un bacio a tutti Un bellissimo bacio per tutti Grazie per essere passati, regà Vi auguro una buona Ciao, Franci Ciao, Luigi Ciao a tutti, raga Sto scherzando, Erli Buona serata, ragazzi Buona serata a tutti Ciao, Verli Ciao, ciao, ciao